Mi ha colpito molto questo articolo sulla nazione inerente alla pubblicazione di un post da parte di un docente universitario di Siena che praticamente cerca di spiegare perché Hitler poi non fosse quel mostro che era in quanto si era proposto di sterminare coloro che ora comandano il mondo e che ci opprimono. La cosa naturalmente all'inizio non tanto perché il rettore dell'università ha espresso una cosa sua e il pensiero è veramente pesante e brutto. Però mi è piaciuto anche leggere un altro articolo che è più in basso che parla di questo paese inteso come l'Italia che non ha mai fatto i conti sul serio con il fascismo. Io aggiungerei di più, l'Italia non ha mai fatto i conti con la vera nascita della democrazia. Perché? Perché quando è finita l'ultima guerra mondiale i crimini dei nazisti sono stati giudicati da un tribunale internazionale che poi ha combinato le varie pene. Qualcuno dei gerarchi nazisti si è ucciso, qualcuno ha scondato la condanna, qualcuno è morto, qualcuno è fuggito e poi l'hanno ribeccato tramite il Mossad israeliano. In Italia che cosa è accaduto invece? In Italia è accaduto che Benito Mussolini che era il capo del fascismo, assieme alla sua amante che chissà che cosa ci potesse entrare con i destini d'Italia sono stati attaccati a un distributore in piazzale Loreto dopo essere stati fucilati, quindi senza un vero processo come è accaduto a Norimberga. E secondo me una democrazia che nasce su un crimine perché uccidere un capo di uno Stato, anche se è il più delinquente o assassino, e senza processo insomma non è bello. O con una condanna fatta da una parte, cioè vale a dire dai partigiani che s'aventarono, come si dice ad Arezzo, su Benito Mussolini prima che ci potessero mettere le mani gli americani che lo avrebbero sicuramente processato a Norimberga o negli Stati Uniti. Oppure qualcuno più cattivo dice prima che arrivassero alle carte segrete che poteva avere con sé Mussolini sui contatti di una possibile pace con gli inglesi. Ma veniamo ai fatti. Siccome Siena, la città di Siena dove è questo docente, si è detto esterefatte dove da Siena partono dei pullman giustamente per andare a visitare i campi di concentramento telieschi per far vedere diciamo le conseguenze dell'olocausto, io vorrei che quei pullman al ritorno facessero una capatina a far vedere agli studenti le foibe, perché delle foibe dove sono stati gettati anche vivi tanti italiani, da parte di altri italiani di opposta idea politica, se ne è parlato pochissimo e solo ultimamente, per cui la storia è stata un po' tasciuta secondo me. e non è bene per la democrazia, perché in una democrazia bisognerebbe parlare delle neofandezze che succedono in guerra, sia da una parte che dall'altra. In conclusione i partigiani che poi si sono assunti le loro responsabilità sono anche quelli, per esempio della brigata Garibaldi, che hanno ucciso i compagni della brigata Osoppo solo per il fatto che avevano piacere che i titini, cioè i militari di Tito, arrivassero a Trieste prima degli alleati. E se questa è democrazia, io sinceramente non ci credo molto. Buona giornata.